oggi siete qui perché bwin vi ha lanciato una sfida quindi ora vi spiego le regole poi possiamo iniziare dovrete tirare tre palloni da tre posizioni diverse poi in base alla vostra posizione il vostro punteggio potrà moltiplicarsi per tre o per dieci vada qua che fortuna c'è il suo tiro se tira il pallo una volta non piglia mica mai no ha preso anche il target io voglio il bar tiri al pallo tiri quindi adesso l'ho preso anche adesso ma che pallone ho non va non va ho detto che è pesante anche questo è più leggero ma è corso così vita sua vediamo un po' si a fortuna vediamo un po' attraversa informa è tornato normale alla chi che tirava il palo no no basta è finita che c'hai no finito i palloni Questa è tutta e due? No, no! Come no? Pure 60 punti che vado da lontano! È partito! È gol, è gol! Bravo, bravo! Il gol vale uno! Bravo, cara! Eh! Rete! Rete! Ehi! Pallo! Questo è il suo! Ahi! Ahi! Quasi, Manolo! Adesso questo è il tipo di labbra! Questo è buono! Gli altri tre! Dai, 15 secondi eh! Avanti! Un minuto! Eh! Eh, da qua è la tua distanza! Sì! Bravo, cara! Unlucky! Black, black! Sì! Uh! Meglio di sinistra, però! Uh! Figli al drone! 5 minuti, cara! Eh! Tempo! Vai! Eh! Eh! Guarda che c***o! Guarda sulla traversa, guarda! Eh! Eh! 10! No, no! Questa non vale! È dentro! È interno! Ci ha battata, oh! Ma qua! Questa è la tua distanza! Questa! Questo è il tuo gioco! Eh! Eh! Tu traversa! Questo è il tuo gioco! Guarda! Eh! Sì! Tu traversa! Così! Ecco! Questo è il tuo gioco! Bravo! Peccato! Questo è il tuo gioco! Rinfio! Bravo! Eh! Per 10 mortacci! Eh! Questo ce l'hai! Ce l'hai! Oh! Sì! Quasi! Bravo! 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 Ma che? Centrale! eccolo 30 mai ce l'ha quella ce l'ha come questo è importante se a 30 dove per 10 questo la nera esce tempo è finito ha finito ha finito tempo 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 bravo 130 ha vinto Tommy no c'è calcio d'angolo ah c'è calcio d'angolo bravo è normale che vinceva no 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 no